In questa specifica non aveva senso. La sua valutazione su queste pene? Non mi posso esprimere, giustamente è una scelta del giudice. Comunque i fatti sono quelli che si sono accertati e le pene sembrano essere congure. C'è stata una diminuzione rispetto alle richieste dei pubblici ministeri legata a che cosa? Questo lo chieda poi agli avvocati e degli imputati, sicuramente adesso usciranno e vi diranno le loro impressioni. C'è sicuramente stato un abbassamento delle pene rispetto a quelle richieste dal pubblico ministero. La persona fesa non si è costituita parte civile, pertanto la nostra valutazione, il nostro essere presenti oggi era solamente per essere presenti, non certo per avere né un risarcimento né una parola in merito. Abbiamo assistito a una parte del procedimento, del processo, che ci vede interessati tristemente come persone offese. Possiamo chiedere all'avvocato come mai la scelta di non essersi costituita? Perché probabilmente non è questo il filone principale. Questo non è il filone principale e la vedova vuole giustizia e vuole sapere la verità su chi ha ucciso materialmente suo marito. Pertanto in questo procedimento non aveva senso per lei costituirsi parte civile nei confronti di amici fraterni del defunto marito.